ok simo qua c'è abbastanza spazio secondo me puoi metterla davanti e proviamo ad accenderla anzi no no aspetta aspetta tu hai detto prima della black si volevo si volevo fare la black e perché sennò poi dopo non posso più spegnerla raga facciamo ancora la black si facciamo ancora la black dato magari ci da riscontro all m1 ha ragione va bene ok tanto siamo qua infatti allora riprendo anche la mecca balliamo però raga e poi accendiamo sto riscaldamento a palla e leviamoci da se finisce il rituale no ma e poi si chiedono ma lui è così si lui è così lui è così però adesso mentre lui preparava black io mi chiedevano potrei usare questa come divisa per il pit sei bellissima no beh le scarpe forse qualche storta me la fanno prendere per la ghost fashion week per la ghost fashion week mi piace il tuo senso esatto quindi proviamo a capire se c'è un riscontro all m1 di prima io poi ho sentito una cosa non bella come sentito papà odio guarda come brilla guarda come brilla ho fretta io ho pensato subito quello che magari aveva fretta di andare in un posto papà mi viene a prendere no non posso vabbè me la devo fare a piedi eh comunque ha brillato mentre dicevi queste cose Anna no 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 non vaank no no Probably raga raga haggee io ho capito cos'è cos'è è una mano era una mano è un sparo brava è uno sparo no tipo ok ma è uno sparo paranormale o è uno sparo vero no no è uno sparo vero no no è uno sparo vero uno sparo vero mi stanno sparando cosa vuol dire che stanno sparando no Jack non è normale che si spara a luna di notte no raga siamo rivellati no eh a me sembrava il rumore di una portiera di un'auto no no Jack troppo forte ha vibrato troppo forte era uno sparo un fucile penso quello è un fucile a pompa eh un fucile a pompa non mi piace no ragazzi accendiamo sta cavolo di macchina scusate Anna io te lo richiedo perché gli stavo chiedendo proprio quello Anna qualcuno ti ha dato un passaggio qualcuno ti ha dato un passaggio passaggio l'ha detto l'ha detto ok e quella persona che ti ha dato il passaggio ti ha fatto del male? Anna chi è che parla? chi sta parlando? chi è? chi è raga? è una voce brutta adesso mamma mia è una voce brutta è una voce brutta è una voce brutta è una voce brutta è un uomo che ti ha dato un passaggio Anna? forse non più ho capito forse grazie a te sì sì no ma che voce brutta è una voce maschile raga stanno rivivendo te l'ho detto prima ragazzi mi ha preso una faccia laggiù il quadratino mi ha preso una faccia di in mezzo nel buio non c'è nulla Jack io con l'infravedo giuro mi ha preso il quadratino della faccia guarda 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 mi ha preso un quadratino della faccia raga stanno rivivendo stanno rivivendo ma l'hai sentito che è butturale? sì era bruttissimo e gli ha detto grazie a te stanno rivivendo gli ha appena chiesto il passaggio proprio qua infatti è esattamente esatto dove si è fermata? qua la caricata sì dove siete? Anna? ci sono Anna ascolta Anna ha detto freddo io capito anche Anna sparato ti ha sparato Anna? abbiamo capito che qua un colpo passi inosservato ma il colpo era vero sì era vero passo dietro di te va dietro va dietro va dietro l'ha violentata sul retro dell'auto eh la miseria di solito queste cose le dice Paul e no ok sto solo provando ehi ehi ho tanto paura e anche io non sono tanto a posto ma dallo sparo raga scusate ma c'è una luce non riesco a vedere con l'infra c'è una luce guarda 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 lì guarda 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 guard aspetta gli ha chiesto un passaggio era una bella ragazza giovane che camminava qui da sola paolo per favore si levita di non mi sgaccia parolaccia non lo vedo più allora vuol dire che qualcuno raga cosa c'è anche lì c'è qualcosa cosa è lì che mi ha ripreso il quadro cosa luminosa lì in mezzo agli alberi non vedo nulla aspetta non è un lampione non lo vedo è andata così ti prego prova a risponderci ti prego provaci eh bravo anch'io volevo dirlo anch'io volevo dirlo vabbè qui non ho posto si ed era una voce di donna parla strano parla diverso a prima eh non qui vero prima parlava molto di più era più arrabbiata qua sembra che stia parlando con qualcuno ma ha fatto è grazie suo assassino adesso la voce di uomo ma c'è sempre arriva prepotente cattivo mi fa freddo continua a dire gli è successo qualcosa dopo eh l'è successo qualcosa è successo qualcosa in auto oppure non lo so non lo so solo che non mi piace niente ma niente cosa ti ha fatto quell'uomo guarda come brilla guarda come brilla vedi sono qui sono qui sono qui cosa gli hai fatto cosa cosa le hai fatto scusami cosa hai fatto a quella ragazza uomo parli un po' con noi hai sentito l'hai sentito l'hai sentito di nuovo di nuovo di nuovo noi avete notato che tutti i cani nell'arco di un chilometro stanno abbagliando sì tantissimo però già che un po che lo noto sì sì ma mezz'ora fa no eh cioè un quarto d'ora fa non c'è noi erano ce l'ho fileta è perché c'è stato lo sparo loro li sentono i suoni molto più di noi sempre più convinto che ci conviene fare una le cosa chiudere amici miglia i sii Stiamo rivivendo uno spazio tempo di quello che è accaduto a quella ragazza Sì, 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 sono convinto Raga, siccome non tira anche bell'aria No, non voglio ricevermi una pallotto in testa A questo giro facciamo veramente partire le macchine E con questa chiudiamo le 11 miglia Diamo un giro Sono d'accordo Fai partire questa maledetta auto Grazie a tutti Grazie a tutti